Ciao, adesso sei a Frosinone, stai con me in questo appartamento al secondo piano e stiamo esattamente in una delle tre camere da letto presenti in questo appartamento che ha anche due bagni, sala, soggiorno, cucina e un lungo corridoio e puoi apprezzare sin da subito quello che è la spaziosità di questo ambiente spostando con il dedo sul cellulare o mouse se stai in modalità computer quindi puoi vedere tutto quello che è lo spazio sia nell'alto oppure il parquet che c'è per terra oppure dietro le mie spalle con l'infisso in legno e il termosifone in ghisa per gli altri contenuti e video ti rimando sul sito cionficasa.it